Ehi la ciurma, io sono Marzia Tess e benvenuti in questo nuovo episodio di Book of Demons Devo dire che siamo quasi alla fine, nel senso che, beh, 75,7% dice Forse con 4-5 episodi ancora riusciamo a concludere Ah, e qua il Verismol è 12 minuti, diciamo che un Verismol ci sta Perché, oh, così tutta sta roba, mi sa che ci sarà da morire tanto Ho migliorato questa di livello e ne ho comprate due Just in case, per essere un pochettino più sicuro E ciao, ciao, quanto mi picchiano malissimo Allora, scusate, io me ne vado qua perché Tutti questi alcieri non si possono vedere Ho bisogno di vita Ma tutta questa schiera di alcieri, porca miseria Ok, si è autostunnato per fortuna E niente, ce n'è uno qua sotto che deve rompere l'anima Oltrevo qualcosa di antifuoco O è la fine? Ok, dai, mi ha ridato la pozza che abbiamo usato Per ora siamo in pare Ma mi sentirò più tranquillo solo quando saremo a 10 Eh, il boss l'ho visto, era là sotto Se non sbaglio Quindi cercherei di aggirarlo Di andare a ripulire questa zona qua Ecco, dammi di nuovo tutta la vita, please Ma vorrei solo un attimo ripulire quella zona In modo da potermi muovere più tranquillo Quando trovo il boss Che secondo me è là sotto Poi magari sto dicendo una cavolata ed è qua Ho una pozza in più, non è male Quello si è riempito C'è anche un altro coso là di salute, diciamo Quindi non dovrebbe essere troppo terribile Poi la cosa più pericolosa Secondo me erano quegli arcieri là all'inizio livello Ah, occhio Croce Allora, ripuliamo qua Così che qua è tutto a posto Sono passata accanto a una cesta e non l'ho aperta Non è questa Invece sì Una carta non identificata Va bene, allora Di mana siamo abbastanza a posto No, siamo a posto di mana Riprendi quei due punti di vita Che potrebbero essere fondamentali Ok E ora Scendiamo Eccolo C'avevo ragione allora No, ecco Comunque l'armatura che blocca gli stun Buona parte delle volte è molto utile Allora, me ne vado in qua perché voglio Eliminare loro come roba prioritaria Perché mi rompono davvero troppo le scatole in questo momento Sì, e qua potevo evitare di farmi spawnare questi mostricettoli addosso probabilmente Aia, 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 aia Fammi andare in giù di là Please che c'è La pozza Vieni pure tu Se vuoi ma Voglio poter muovere un po' meglio Dai Ok Ok Ok, se torniamo sotto C'è altra gente qua Mi sa di no Cos'abbiamo dimenticato? Ah no, questo qua L'abbiamo dimenticato Ok Vada e scendiamo al piano di sotto Quanti minuti? Sei minuti? Ok, dai Ma perché quando facciamo quelli corti sono tanto corti E quando facciamo quelli lunghi sono tanto lunghi Wei, 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 calmini Ma che cavolo Dai Oh, sono salito di livello Facciamo Più vita a sto giro Stiamo perdendo a pacchi Ok Ok Ok, si è autostunnato Buonissimo Crepaci Bene, bene Così Ah, questi sono tutti Niente Credo di averlo fermato Invece no Ok No, comunque Impegnativo a fare dei Due episodi di Book of Demons Di seguito Per il dito E E la morte Cioè per diluso Del dito Indice Cioè è morto quello Aia E lui no Invece si Era proprio lui Ma io vorrei andare un attimo in là Se possibile Quindi qua c'è il coso Di vita E che se è necessario Se bloccato in una situazione cattiva e malvagia Posso backupare Insomma No, l'ho schivato tipo a caso Ma per fortuna Perché sono qua Ok Ok Aia Dai che forse non è neanche necessario Ok Non è stato necessario E ha toccato una pozza Buono Adesso dovrebbe essere tutto più tranquillo Teoricamente Ok Siamo quasi alla fine Raccogliamo tutto Tutto posto Ok Pensavo di aver missato qualche barrel Almeno Invece no Uh Abbiamo sbloccato il nuovo avatar Si mettila Allora Il prossimo A essere sbloccato È questo Il wanderer Ci sta occupando Se deve andare Con il witch hunter Con il healer Quelli non riusciamo a sbloccarli In realtà Perché Ah Sarei interessato A sbloccare questo Così dovrebbe sbloccare Sia questo Che quello Là sopra Anche se secondo me Ci vorrà Una vita e mezzo Si mettiamo il witch hunter Poi questo Il wanderer Lo prendiamo In un altro momento Secondo me Comunque non arriviamo A sbloccarli tutti Witch hunter Ok Direi che però Per oggi è tutto Concludiamo qua Facciamo un episodio Un pochettino più veloce Visto che l'altra volta Ne abbiamo fatto uno Un pochettino più lento E magari ne faccio Un altro Più breve Anche la prossima volta Detto questo Vi invito a lasciare un mi piace Iscrivervi al canale Se per caso non vi sia già fatto E lasciare un commento qua sotto Ciao a tutti Buona giornata Ciao a tutti